La dichiarazione del vice direttore generale, del direttore generale aggiunto, Cort, in Commissione Agricoltura e Svilupporale del Parlamento Europeo è stata molto positiva perché lui ha annunciato che proporrà il ritiro dell'atto delegato al commissario Hogan, che è esattamente quello che volevamo. Dovremmo attenderci quello che ha detto Cort, che si verifichi, cioè il ritiro dell'atto. Quindi non ci aspettiamo nessun nuovo atto, salvo aggiustamenti di carattere giuridico per la definizione di atti delegati, atti di implementazione, che quello va fatto per ragioni di adeguamento al Trattato di Lisboa. Naturalmente continuiamo a vigilare, non è che ci fermiamo. Abbiamo registrato che il nostro obiettivo è stato dichiarato dalla Direzione Generale Agricoltura, poi dopodiché evidentemente continueremo a vigilare affinché non ci siano rischi che tornino fuori altre proposte. Nessun produttore si può ripoggere alla Corte di Giustizia, per definizione. Alle Corte di Giustizia si ricorrono i tribunali, per cui non è possibile che un produttore spagnolo o portoghese ricorra alla Corte di Giustizia, questo non è possibile nel nostro ordinamento. Per quanto riguarda il rischio, fino adesso, dal 2007, non abbiamo mai avuto questo caso. Non ci sono stati questi casi, quindi non capisco perché lo status quo non garantisca come è garantito fino adesso. L'attuale regolamento tutelava il nome del vino se questo conteneva l'indicazione geografica. Se noi per esempio ci riferiamo all'Ambrusco di Sorbara, l'elemento della denominazione tutelato è Sorbara. Quindi io per esempio non posso fare il Sorbarino, ma l'Ambrusco invece non era tutelato perché non identifica nessuna zona geografica. La correzione della commissione viene a togliere proprio questa limitazione al solo elemento geografico, ma la estende a tutta la denominazione, così da proteggere non solo Sorbara, ma anche l'Ambrusco. Quindi in questo senso per noi la modifica proposte della commissione è molto buona. A condizione però di mantenere inalterato un allegato, l'allegato B, che comprende l'elenco dei vini il cui nome deriva dal vitigno. Nel caso dell'Italia per esempio c'è tutto l'elenco dei vini come il Lambrusco, il Sangiovese. L'accoppiata di questi due elementi tutela una volta per tutti i vitigni e i produttori italiani che producono questo vino. Non dovrebbe essere possibile scrivere in etichetta l'Ambrusco di Granada, perché il Lambrusco fa già parte dell'elenco dei vini appartenente allo Stato italiano. Sussisterebbe un vincolo nazionale per tutta una serie di vini come il Lambrusco, il Sangiovese e via dicendo. La commissione ha fatto questa apertura, ovvero in pratica ha chiamato a sé, al tavolo di discussione, tutti i diretti interessati. Dal nostro punto di vista questa è una grande occasione per lasciare da parte le barricate tirate su fino adesso e diventare parte attiva in questo processo. Grazie a tutti!